Allora continuiamo, scusate che si era tolto un attimo il video Allora, scarpe del mese, uso le blazer, che ce le ho viola e verdi Poi stivali marroni con i purloni, non ho solo questi scarpe, sono quelli del mese Ma quelle che indosso di più, visto che in questo mese stanno usando molto il bianco, non mi chiedete perché E queste sono le uniche scarpe comode e bianche che ho Indosso tanto queste, il giardino d'oro, però sono belle, come dire, sporche perché le indosso davvero sempre Le ho finite di sporcare oggi E niente, il video tag è finito, l'ho scritta, scrittura atroce ma scrivo meglio, non bene ma meglio Quindi, vabbè, a parte questo volevo salutare la mia seconda scritta Ora siete in due, ma spero crescerete perché, cavolo, faccio tante scritte No, vabbè, spero di piacere per questo E quindi, niente, la ringrazio, mi sono anche iscritta al suo canale, ci siamo ricambiate l'offerta E poi sotto vi scrivo nell'info box come si chiama E ancora Mi sfugio di fare una scusa, perdonami Però scrivo sotto nell'info box come si chiama Così magari visiterete il suo canale che è davvero brava E poi, niente, volevo ringraziare Perché? Zoe, 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 una cosa del genere Vi scrivo magari qua Come si chiama Che mi ha scritto il primo commento bello che posso ricevere Su YouTube Cioè, il primo che ho Ok, il primo che ho ricevuto su YouTube Che mi pare che l'è inglese perché l'ha scritta in inglese Comunque, l'italiano ha scritto meravigliosa in qualsiasi lingua Ed è davvero un bellissimo commento, secondo me la ringrazio tanto E... basta Il tag è finito, spero vi sia piaciuto E un bacione